Il giorno più lungo della storia recente del Teramo è alle porte. Domani il Vecchio Diavolo giocherà una delle partite più importanti in 102 anni di storia. Più di quella giocata a Savona il 2 maggio e che è, in questo momento, quella che potrebbe far passare il Teramo dal Paradiso all'Inferno, come al Monopoli, senza passare dal Via. La partita, però, non si giocherà su un prato verde, dentro uno stadio, ma nella sala convegni di un albergo romano tramutata in aula di tribunale sportivo dove il Teramo è stato trascinato da una storiaccia fatta più che altro di ombre. Ombre che riguardano un capo di accusa ben preciso, frode sportiva, ossia tentativo di alterare attraverso una combin il risultato della partita decisiva. Savona-Teramo, appunto. Ma le ombre sono tante. In un'aula di tribunale con quello che ha in mano l'accusa, il Teramo non sarebbe mai arrivato. L'inchiesta sarebbe stata archiviata o, in caso di giudizio, la difesa avrebbe avuto gioco facile. Non c'è uno straccio di prova, non c'è chi avrebbe truccato la partita, non ci sono i soldi per pagare la combina, non ci sono giocatori implicati e bisognerebbe dimostrare come si può truccare la partita senza tirare dentro chi la partita la gioca. Insomma, non c'è nulla di concreto. Ci sono solo delle intercettazioni telefoniche dove dentro Ercole di Nicola e Marcello di Giuseppe fanno tante chiacchiere, molta confusione e nient'altro. Basta tutto questo per condannare una società alla fine? Già, perché se il Teramo dovesse perdere la B, questo è doveroso saperlo, difficilmente ripartirà da un campionato diverso, Lega Pro o Serie D che sia. Campitelli mollerà, questo è chiaro, e il Teramo rischia seriamente di scomparire per la seconda volta senza che ora ci sia, all'orizzonte, qualcuno che lanci una ciambella di salvataggio. Sette anni di vittorie e di una società pulita sotto tutti i punti di vista, costretta a ripartire dalla promozione arrivata in B, verrebbero cancellati con un colpo di spugna basato su pettegolezzi. Tutto questo dovrà valutare il collegio giudicante presieduto da Sergio Artico. E non sarà cosa facile. Il Teramo punterà tutto sulla bravura dell'avvocato Edoardo Chiacchio, uno che ne ha viste tante, ma quella sportiva è una giustizia sommaria dove si taglia col macete e non con il bisturi. Un'ultima annotazione va fatta per il comportamento dell'Ascoli. È vero che è diretta e interessata della vicenda, ma visto la suonata presa in campionato per manifeste inferiorità nei confronti del Teramo e non peraltro avrebbe fatto meglio a stare alla finestra e aspettare. Cosa le costava? La B, in caso di condanna a Biancorossa, non gliel'avrebbe tolta nessuno. Invece ha brigato, si è mossa, ha nominato avvocati e sarà presente a Roma. I campionati si vincono sul campo e se si vogliono scegliere scorciatoie, anche se lecite, bisogna saperlo fare. Ricordate cosa disse il capitano della Svezia, giocatore dell'Atalanta, Stromberg, dopo che il Milan eliminò i Bergamaschi dalla Coppa Italia non restituendo il pallone e segnando il gol decisivo? Signori, si nasce, ricchi si diventa. E proprio così, illustre presidente Bellini, lei ricco ci è diventato.